Ecco, con oggi voglio provare a condividere i 10 errori da non commettere in un progetto di sviluppo, cercando di dargli un ordine e provare a spiegarli per bene uno per volta. Il primo è non essere umili, ossia non accettare e non predisporsi al cambiamento. Oggi il mercato è profondamente cambiato, l'abbiamo visto più volte, quindi è necessario assolutamente imparare ad osservare e a conoscere le nuove regole del mercato. Per fare questo bisogna essere umili, bisogna predisporsi al cambiamento, bisogna essere predisposti ad imparare cose nuove, ad ascoltare dagli altri, ad imparare da chiunque, da qualsiasi cosa, altrimenti noi andremo avanti sempre con il nostro punto di vista in modo rigido e proveremo in modo assolutamente inefficace a replicare un metodo che in passato può aver generato risultato, ma in questo mercato così profondamente cambiato non genererà alcun risultato. Quindi non possiamo lamentarsi del risultato se non abbiamo l'umiltà per imparare un nuovo metodo di lavoro e soprattutto il nuovo regolo del gioco. Grazie. M garageì? Grazie. gente. Grazie.